Salve, tifosi rossoneri, vi riportiamo una notizia fresca fresca che ha sorpreso tutti e sta mettendo in agitazione i tifosi. Innanzitutto, se volete rimanere aggiornati su tutti i nostri aggiornamenti sul Milan, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un like. Guardate fino alla fine del video perché la seconda notizia vi sorprenderà, si tratta di un addio al Milan. Passiamo ora alla prima notizia. Un nuovo centrocampista potrebbe essere aggiunto alla nostra rosa nella prossima finestra di trasferimenti per rafforzare ulteriormente la squadra. Il Milan sta lavorando attivamente per rafforzare la linea difensiva dopo una stagione in cui ha subito 49 gol solo in campionato e un totale di 69 gol in tutte le competizioni. La necessità di rinforzare la difesa è evidente e, secondo quanto riportato da Sky, il club è in trattativa per l'arrivo di Strainja Pavlovic dall'RB Salisburgo. Pavlovic, che condivide la nazionalità con Luka Jovic, ha rappresentato la Serbia agli europei in Germania, dove la sua squadra è stata eliminata nella fase a Gironi. La scorsa stagione si è distinto per il Red Bull Salisburgo, totalizzando 37 presenze in tutte le competizioni e contribuendo con 4 gol e 3 assist. A 23 anni, Pavlovic è noto per la sua presenza aerea dominante ed è stato paragonato a Nemanja Vidic. Si ritiene che possa essere il partner ideale di Ficaio Tomori al centro della difesa del Milan, soprattutto perché è un mancino che potrebbe integrarsi bene con lo stile di gioco di Tomori. Tifosi del Milan, vorremmo conoscere la vostra opinione su questo potenziale acquisto. Siete d'accordo sul fatto che Strainja Pavlovic sarebbe un'aggiunta preziosa alla nostra difesa? Pensate che il suo arrivo possa contribuire a stabilizzare la linea difensiva e a ridurre il numero di gol subiti. Condividete le vostre opinioni nei commenti qui sotto.